Matano e Riccardo Mannino abitano in un appartamento nella città di Roma. Come si è notato dai vari scatti postati sui social, la loro è una casa luminosa e composta da un ampio terrazzo con tanto di verde e molta natura. Si tratta infatti di una casa grande e davvero accessoriata in cui è possibile vedere un'ampia cucina in cui il conduttore si diletta spesso nelle varie ricette. L'arredamento della loro casa è inoltre dei colori molto chiari e questo permette di dare all'ambiente un tocco di eleganza e di grazia. Il tutto viene sicuramente arricchito dalla tanta luce che entra nelle stanze e che trapela dalle grandi finestre presenti nell'abitazione. Ai fan non è inoltre passata inosservata la palestra che permette alla coppia di allenarsi nel tempo libero e di restare sempre in ottima forma. Lo stesso giornalista è inoltre svelato di amare molto il terrazzo della sua casa che comprende una zona relax e dei divanetti bellissimi che permettono loro di trascorrere un po' di tempo libero in quell'ambiente esterno. Immancabile è infatti la natura fatta di alberi e piante che danno alla coppia la sensazione di trovarsi letteralmente immersi nel verde. Attivisti messi social Alberto e Riccardo pubblicano spesso scatti che ritraggono la loro quotidianità e la loro attività lavorativa. I loro profili Instagram ufficiali vantano infatti la presenza di migliaia di fan che li seguono sempre con molto affetto.